Ma perché poi in fin dei conti Atene accettò di seguire il consiglio di Alcibiade di fare questa spedizione in Sicilia nel 415 avanti Cristo? Perché certo di prima Chito sembra un buon consiglio quello di intervenire in Sicilia in aiuto di Segesta per poi in certo qual modo anche in fin dei conti sconfiggere Siracusa perché se attacchiamo Selinunte attenzione interveniamo perché Segesta con cui abbiamo un rapporto, un contratto, un trattato ed è nostra alleata è attaccata da Selinunte. Ma se interveniamo aiutandola Selinunte è amica alleata di Siracusa quindi Siracusa interverrà di sicuro e Siracusa è una colonia di Corinto, Corintia e Corinto fa parte della Liga Peloponnesiaca cappeggiata da Sparta nel Peloponneso. Perché quindi bisogna tentare in verità questo tipo di approccio? In realtà probabilmente il senso anche indiretto di Alcibiade potrebbe aver fatto riflettere qualche Atenese. Probabilmente perché riuscire poi in potenza a vincere in Sicilia in particolar modo contro Siracusa avrebbe comportato da parte di Atene la ricchezza, l'acquisizione in fin dei conti, il controllo della ricchezza in Sicilia. Questo è fondamentale probabilmente perché Atene si trovava in una situazione dopo la pace di Nicia di stallo e tutt'al più aveva anche appunto dato via diverse risorse per la guerra durante la guerra del Peloponneso. Questo è un primo punto, cioè la guerra del Peloponneso era scattata tra Atene e Sparta. Due potenze, si può dire perfettamente, una di stampo economico-commerciale, l'altra più che altro di stampo rurale-militare. Il tema è interessante perché se dobbiamo mettere in rapporto queste due potenze capiamo che Atene è più forte di Sparta. Probabilmente perché certo magari non ha i soldati addestrati come gli spartiati, ha solo gli uomini civili, ma si occupa di commerciare. Ha grandi relazioni sparse per l'Egeo. Aveva e ha la Lega degli Oattica, tale per cui questa alleanza tra le poleis sparse per l'Egeo mantiene in certo qual modo la forza atenese tramite cui anche prima della guerra del Peloponneso ci fu questa tassazione che aveva portato Atene a costruire la flotta. Sparta non di meno aveva un'enorme flotta Atene, tale per cui attraverso questa flotta che andava tra le 200 e le 400 navi riusciva a controllare poi anche l'Egeo. Sparta non poteva pensare di riuscire in tal senso a corrispondere a una stessa forza che Atene aveva. Tutto al più Sparta aveva sempre anche il problema degli opliti entro Sparta, probabilmente perché gli spartiati erano sempre pochissimi in percentuale degli loti, che erano gli schiavi, che tendevano a rivoltarsi. Pertanto perdere anche soltanto 10, 20, 50 spartiati era grave per Sparta, lo si era visto perfettamente anche in fin dei conti durante la stessa guerra del Peloponneso. Quindi cosa fare? Atene perché decide di andare in Sicilia? Decide di andare in Sicilia perché probabilmente pensa che deve vincere la guerra, cioè in una situazione di stallo, in una situazione in cui peraltro si è arrivati in fin dei conti a degli accordi tra Atene e Sparta, in cui Atene pensava di riuscire a vincere questa guerra e questa situazione di stallo non fa bene secondo alcune a logica atenese tale per cui non può che essere Atene più forte di Sparta, il diritto del più forte, capite ancora quella logica, in questo senso si pensa anche a Tucidide, ecco allora che noi dobbiamo vincere su Sparta. Quindi da un certo punto di vista si potrebbe pensare che da un lato c'è un'ideologia di questo senso in Atene, cioè è vero che siamo in guerra contro Sparta, ma noi siamo i migliori, noi siamo i più forti, cosa che fa dire Pericle ai suoi, o meglio cosa che dice Pericle ai suoi cittadini? Noi siamo i migliori, noi siamo i più forti e lo saremo sempre. Pericle mora ma questa logica permane all'interno della mentalità atenese, si vede anche l'episodio sull'isola di Delo, di Melo scusate. Pertanto la spedizione in Sicilia è necessitata, è necessitata dal fatto che servono quelle ricchezze che sono importanti per riuscire poi a vincere contro Sparta. Il problema però naturalmente è che in potenza e teoricamente si può fare, si può fare perché da un punto di vista soltanto teorico noi abbiamo la migliore flotta dell'Egeo, la più vasta flotta dell'Egeo e possiamo tentare una spedizione perché abbiamo un supporto economico che ci permette di fare una grande spedizione arrivando fino in Sicilia. Se ce la faremo avremo abbastanza ricchezze, avremo abbastanza poi fondi, non solo per vincere la guerra del Peloponneso ma per costruire un vero e proprio impero. Non già un impero soltanto che riguarda le isole dell'Egeo e l'Attica ma propriamente anche la Sicilia, la grande isola, il punto a sud della penisola italiana. Questo è rilevante. Pertanto ascoltiamo Alcibiade perché in potenza si può fare. Bene, viene fatta questa spedizione. All'inizio sembra che siano tutti abbastanza concordi con la proposta di Alcibiade se non che attenzione le cose poi nel momento in cui davvero la spedizione è pronta e vengono mandate diverse navi di Atene. Ecco che allora non tutte, sembra circa 60 la prima volta. Ecco che allora... Durante appunto questi giorni di navigazione eccetera le cose cominciano a mutare perché quando si arriva poi verso la Sicilia i tre generali sembrano poi non essere più così concordi. Cioè Niccia, Alcibiade e Lamaco che sono i tre strateghi hanno delle posizioni totalmente diverse sul da farsi. Eppure questo è interessante. Cioè lo stesso Tuciride in fin dei conti mostra delle posizioni dei stessi strateghi che probabilmente quando si è in viaggio cominciano a mutare. Cominciano a mutare sulla base di presupposti che potrebbero essere riflettuti sul fatto che, attenzione, un conto è prendere magari una decisione in Atene e nell'Assemblea. Un altro conto invece poi è nel momento in cui si viaggia e c'è appunto un dispendio di energie, c'è un dispendio appunto di cibo, di viveri eccetera. C'è anche il problema naturalmente di dove dobbiamo attraccare, di chi ci farà attraccare, il problema degli opliti, della gestione dell'esercito. Tutto questo porta i tre generali a un certo punto a preoccuparsi e non essere più tanto d'accordo tra loro. Infatti a un certo punto Nietzsche dice no, dobbiamo attaccare subito Selinunte e basta. Poi invece Alcibede dice no, no, noi dobbiamo cercare di prendere la Sicilia, dobbiamo cercare di attraccare nei diversi porti, cercare poi di sottomettere le città siciliane e poi in fin dei conti dovremo riuscire a conquistare Siracusa. E poi c'è Lamoco che dice direttamente no, attacchiamo direttamente Siracusa, così sono già tutti impreparati, già che i siracusani in fin dei conti non sanno tanto del nostro arrivo benissimo e riusciremo poi a conquistarli, a sconfiggerli. Capite che il presupposto comincia tra l'altro a modificarsi anche perché la differenza sta probabilmente nel fatto che un conto è parlare nella propria città sulla base anche di costi benefici che si hanno davanti sulla base di ciò che è accaduto durante la guerra del Peloponneso che in fin dei conti ha visto comunque Atene seguire in certo qual modo la prospettiva di Pericle, stare dentro le mura, cercare di non uscire più di tanto dalle mura e utilizzare la flotta per cercare di limitare quelle posizioni che interessano a Sparta cercando però di continuare a commerciare. Pertanto continuando così in fin dei conti Atene non era stata sconfitta, anzi nel compito totale se possiamo dirlo alla fine Atene era ancora in vantaggio su Sparta perché comunque aveva il lato commerciale e la flotta ce l'aveva ancora. A un certo punto però il tema del dobbiamo andare in Sicilia portò ad avere una grande spedizione che poi non vedeva tanto un supporto delle città siciliane o meglio le città siciliane cominciarono a non aprirsi tanto agli Atenesi. Infatti gli Atenesi non sapevano più dove diavolo riuscire ad attraccare specificatamente se non poi che si riuscì ad arrivare a Catania perché poi gli abitanti di Catania accettarono di parlare con Alcibiade che da grande oratore qual è li riuscì a tenere un po' appunto li riuscì a trattenere tra virgolette eccetera poi si riuscirono gli Atenesi a fare inserire un po' di opliti all'interno della città e quindi furono costretti gli abitanti di Catania a decidere di arrendersi e qui Atene potè un attimo organizzarsi ma il presupposto è interessante perché un conto pensavano Nietzsche, Lamaco, magari anche Alcibiade ma forse un po' meno è partire e il nostro piano è perfetto poi una volta che arriviamo le cose cambiano tutt'al più anzi ricordiamoci sempre questo è un altro presupposto è possibile che abbiano cambiato idea anche sulla base di un altro presupposto ovvero sia quello del è però le cose sono un po' più complicate di quello che Alcibiade aveva in fin dei conti proposto non è che se torniamo senza un risultato poi ad Atene ci defenestrano cioè possiamo perdere la testa ad Atene se noi non torniamo con un risultato e questo preoccupò davvero soprattutto anche Nietzsche molto probabilmente tale per cui a un certo punto forse più che un risultato maggiore cioè di conquistare direttamente la Sicilia bastava a questo punto magari per avere comunque un risultato entrare a sviluppare quel risultato riuscendo poi a sconfiggere direttamente Serinunte o attaccarlo direttamente Siracusa cercando di non fare il grande progetto imperialista di conquistare comunque tutta la Sicilia e questo è un altro presupposto importante perché è propriamente il rapporto a una paura dei tre generali specificatamente a Nietzsche e a Lamaco che concerne da un lato l'efficienza di coloro che sono andati a fare la spedizione ma dall'altro il risultato della spedizione che poi in atto non si stava trasformando in quello che poi sembrava Atene potesse fare praticamente l'altro canto questo anche perché perché la Sicilia era piena di città diverse tra loro che attenzione erano in una situazione politico istituzionale che cambiava dalla mattina alla sera ma letteralmente ovvio non dalla mattina alla sera ma per molti versi davvero in realtà letteralmente dalla mattina alla sera cioè la situazione delle città siciliane era tra la tirannia, oligarchia a volte un pochino più di democrazia che continuava a mutare quindi gli Atenesi non sapevano bene in primo luogo dove andare per essere supportati specificatamente o dove andare magari anche per conquistare meglio una città in secondo luogo non sapevano la situazione politico istituzionale d'Atene ricordiamoci non c'era internet dove io scrivo un attimo com'è qua e mi esce un attimo la cartina con la situazione non sapevano nulla quindi andavano un po' in fin dei conti senza sapere che cosa sarebbe successo lì o com'era la situazione lì se quella città era occupata da una tirannia da una oligarchia magari c'era una democrazia o magari c'era una democrazia che poi il giorno dopo diventano oligarchia e anche magari se loro arrivano eccetera cambia il piano perché degenera il governo oltretutto avevano una bassa conoscenza dell'isola cioè c'era a dire che l'isola comunque la Sicilia è grande e gli attinesi in tal senso non conoscevano bene la Sicilia anzi conoscevano poco poco molto poco e questo implicava anche che ci doveva essere anche un attimo di organizzazione tutte queste cose assieme portano davvero i tre generali soprattutto Niccia e Lamaco molto meno al Cibiede probabilmente perché era un po' più folle era molto più folle un po' pazzole dal Cibiede però porta davvero Niccia e Lamaco a preoccuparsi di molto anche perché capite bene che se mettiamo tutte queste situazioni e complicazioni assieme è nesce che potrebbe nel caso peggiore nel caso migliore uscire con un nulla di fatto noi comunque siamo implicati in questo nulla di fatto nel caso peggiore perdiamo la flotta o perdiamo diversi uomini e infatti alla fine accade che certo ci fu in certo qual modo un assedio a Siracusa alla fine ma dopo che al Cibiede in primo luogo tra l'altro era stato implicato anche un'altra cosa un'altra difficoltà nella questione delle Erme che aveva visto appunto Atene e gli abitanti etinesi una grande preoccupazione perché qualcuno aveva tentato il senso delle divinità e quindi al Cibiede richiamato indietro perché sembrava che fosse in relazione a questo poi al Cibiede torna ma cosa che fa scappa Sparta e poi dice agli spartiati e poi anche Corinzi che erano alleati che cosa stavano facendo i suoi compatrioti Atenesi il traditore diventa un traditore tale per cui a un certo punto c'è anche una questione in più va bene noi stiamo attaccando Siracusa però a un certo punto arrivano anche gli spartani e attenzione i Corinzi la questione è complicatissima tutt'al più anche all'interno della Sicilia ci sono in fin dei conti delle situazioni di rivolta stessa contro gli Atenesi e la situazione quindi comincia piano piano se all'inizio era a favore degli Atenesi stavano riuscendo a conquistare Siracusa dalla flotta poi vabbè Siracusani costruiscono a Ortigia un muro però a un certo punto quando arrivano gli spartani e i Corinzi la situazione cambia radicalmente e Nicia è costretto a chiedere aiuto ad Atene e Atene è costretta a mandare altra flotta e manderà tutta la flotta che resta e questa volta Atene ha la possibilità davvero di uscirne di tornare a casa hanno la possibilità di tornare a casa nel momento in cui arriva a Demostrani l'altro stratego hanno la possibilità di tornare a casa perché c'è il blocco del porto se si interviene subito si può togliere il blocco e le navi che sono le navi etnesi dentro questo blocco possono uscirne ci sono abbastanza uomini si può tornare indietro però a un certo punto Nicia ormai Lamaco era venuto meno decide di aspettare di aspettare perché in primo luogo ha paura delle conseguenze personali che possono accadere ad Atene considerando che in fin dei conti ci sarebbe stata la conseguenza migliore per lui ma peggiore in fin dei conti un po' per tutti rispetto al tema di quello che ci si era implicati andando in Sicilia conquistando Siracusa però da questa situazione di Nicia ci sarà non la causa peggiore per tutti la più grande causa peggiore per tutti che sarà la perita di tutta la flotta perché questo tentativo di attendere da parte di Nicia sperando in una buona riorganizzazione porterà in verità una buona riorganizzazione definitiva dei siracusani degli spartani dei corinzi che poi riusciranno a sconfiggere definitivamente gli attenesi che non riusciranno più a fuggire e tutt'al più anche coloro che sono arrivati in aiuto essi stessi diventeranno bersaglio dei nemici e i restanti cercheranno di scappare via terra ma verranno poi catturati definitivamente e coloro che resteranno sopravvissero resi schiavi fino alla morte Atene perse diversi suoi generali tanti uomini tutta la flotta e una potenza che in quell'epoca sicuramente stava dicendo il suo che con una migliore organizzazione poteva fare meglio per una situazione di un insieme di circostanze di implicazioni anche di preoccupazioni ma anche di malgestione generale degli eventi tutt'al più considerando anche il traditore alcibiade perse tutta la flotta che in verità facendola stare in Atene avrebbe portato in fin dei conti a una situazione continuativa di stallo ma probabilmente questo atteggiamento di Atene poi la portò poi a perdere la guerra del Peloponneso perché nel momento in cui tu hai perso la flotta si puoi tentare di ricostruirla ma nel momento in cui perdi la flotta perdi ciò che ti rende davvero egemone più che il resto tu perdi il controllo della tua situazione generale e infatti quello che accadrà successivamente sarà che in primo luogo quello che porterà tra gli spartani gli Atenesi a chiedere tutti e due denaro ai persiani sarà i persiani che daranno denaro agli spartani non già agli Atenesi chi vuole che gli Atenesi ricostituiscano velocemente la flotta nessuno almeno non i persiani né gli spartani né tanto meno i persiani perché si sa che Atene ricostituendo la flotta diventerebbe di nuovo una minaccia per i persiani ed ecco perché alla fine la guerra del peloponneso fu vinta alla fine dopo la disastrosa perita della flotta nel 413 avanti Cristo fu vinta dagli spartani ma soprattutto poi indirettamente dai persiani perché i persiani si accordarono con gli spartani dicendo se voi accettate il nostro denaro contro gli Atenesi dovete accettare anche di non intervenire più per la libertà dei greci di Asia Minora o di Anaturchia che in fin dei conti poi diventeranno sottomessi a noi e quindi capite bene che indirettamente tutto ciò porta in verità a una vittoria indiretta dei persiani quindi la guerra del peloponneso vinta dagli spartiati ma indirettamente vinta dai persiani con gli Atenesi sconfitti ciao